Il ruolo della cultura è fondamentale nei processi di ricostruzione, questo quello che dicono attori e attrici uniti per il post-covid. Nelle parole dell'attore Nisseno, Rosario Petix, che da anni vive in Roma e calca i palcoscenici più importanti, l'unione per chiedere ai ministri del lavoro e della cultura in una lettera quale sarà il loro futuro, considerato che le attività teatrali a quanto pare ricominceranno per ultima. Il tema è l'erogazione dei fondi emergenziali. In questo momento di emergenza, dalla quale spero usciremo al più presto possibile e sicuramente meglio di come eravamo prima, in questo momento sta succedendo qualcosa di incredibile, almeno per me. Come lavoratore dello spettacolo ho sempre visto il nostro mondo come una sorta di far west, anche perché tra il lavoro in nero, tra le condizioni che siamo costretti ad accettare molte volte solo per poter continuare a fare il nostro lavoro. Ci spendiamo anima e corpo, sempre, sempre. Diamo tutti noi stessi per il nostro lavoro, per quello che facciamo, per regalare una risata, un sorriso, una lacrima o una riflessione. Il teatro ha sempre avuto poi una funzione pedagogica oltre che di intrattenimento. In questo momento, dicevo, sta succedendo qualcosa di straordinario. Io faccio questo mestiere da circa vent'anni adesso e da quando mi ricordi questo settore è già in ginocchio. Prima del coronavirus il nostro settore era già claudicante in ginocchio. È bisognoso di aiuti e di revisioni di tutto l'apparato che regola il nostro settore. Adesso sta succedendo che il sindacato, le associazioni di categoria, stanno cercando di cambiare delle cose, stanno cercando di migliorare il nostro settore dato che questa pandemia ha fatto uscire fuori tante problematiche legate anche al nostro settore. Non sappiamo quando riapriremo, non sappiamo che cosa succederà. Dovremmo però fare un attimino come i francesi. Cioè in Francia c'è la figura dell'artista, dell'attore di teatro, di colui che lavora in teatro, anche del tecnico, ha un'importanza nella società. Viene visto come un mestiere degno di essere chiamato tale. Ma i diritti che hanno i colleghi francesi sono stati ottenuti grazie al fatto che i francesi, i lavoratori dello spettacolo francese, si sono uniti anni fa, ovviamente. Noi non ci abbiamo pensato. C'è stata una lieve speranza con i grandi come Volontè, come Fabrizzi, come quei grandi attori che negli anni 60 e 70 si sono spesi per la battaglia, per la propria categoria. Da allora il nostro mestiere è praticamente abbandonato a se stesso. In questo momento c'è la possibilità di parlare dei nostri problemi, di proporre delle cose, di criticare, perché no? Ma siamo in questo momento oggetto di discussione anche in Parlamento. Alcuni politici anche hanno sposato la nostra situazione come causa da portare e da risolvere. Quindi di conseguenza io faccio un appello ai lavoratori dello spettacolo. Noi siamo molto cinici dopo aver conosciuto il nostro lavoro che riguarda anche il lavoro nero e l'accettare il lavoro nero, l'accettare condizioni a volte disumane. Noi che ci spendiamo sul palcoscenico, diamo tutti noi stessi per una lacrima, un sorriso, una riflessione molte volte. Ecco, noi che siamo più propensi a essere cinici, a pensare che non cambierà mai niente, è probabilmente vero, non lo so, non mi sento di dare false speranze. Però è vero che è stata anche colpa nostra, credo. Noi attori non ci siamo mai uniti per poter risolvere le cose. È vero che anche questo succede perché il nostro mestiere e le condizioni nelle quali operiamo ci spingono all'individualismo. Ecco, in questo momento potremmo fare un miracolo, potremmo fare come i fratelli francesi e fare gruppo, fare unità, unirsi attorno a quelle che sono battaglie che si stanno in questo momento discutendo per la prima volta dopo tantissimi anni. L'unica cosa che dobbiamo fare è sicuramente dare forza col nostro interesse e con la nostra partecipazione, il nostro stare uniti a queste persone che stanno andando a discutere di quello che ci riguarda. Quindi di conseguenza io faccio questo appello, resistiamo, restiamo uniti. In questo momento soprattutto è necessario, seguiamo con attenzione questo tipo di battaglie che si stanno portando a favore della nostra categoria. Perché continuare a stare lontani gli uni dagli altri, continuare a risolvere i propri problemi da soli, non credo che sia edificante per quello che potrebbe essere una riapertura diversa da quello che abbiamo sempre visto. Per carità, non so cosa succederà, lo vedremo insieme, però sicuramente l'appoggio di tutti perché ci riguarda, perché riguarda le nostre vite, il nostro lavoro, il nostro mestiere, la nostra dignità di professionisti. In questo momento dobbiamo stare uniti, mi raccomando, e speriamo bene, speriamo che questa sia un'occasione per poter risollevarci da quello che già stava morendo. Ma magari queste occasioni possono servire per resuscitare, chi lo sa? Non lo so ne nemmeno io, però sicuramente la cosa da fare in questo momento non è disinteressarsi, è stare tutti uniti e vedere insieme che soluzioni possono portarci verso un futuro migliore. Grazie mille di averci ascoltato, di avermi ascoltato, scusate, parlo al plurale maestatis adesso. Grazie di avermi ascoltato, grazie della vostra pazienza e spero che accettiate queste mie parole, le facciate vostre e le diffondiate, perché magari insieme si vince, da soli non siamo mai andati da nessuna parte. Grazie ancora.